Ciao, come ti chiami? Ciao, sono Lucia. Matteo, qual è il tuo corso di studi? Faccio il terzo anno di Medicine and Surgery medtech. Medicine and Surgery medtech, terzo anno. Perché hai scelto medtech? Perché per me riflette lo specialista del futuro. Il connubio tra medicina e ingegneria è fondamentale, sono due scienze che crescono di pari passi. Per avere due occasioni in una. Descrivi il tuo corso in una frase o parola. Piuttosto ma stimolante. Il futuro della medicina. Cosa vorresti diventare da grande? Io sono un po' in quel periodo in cui mi piace tutto, però sicuramente vorrei fare qualcosa che mi permette di sfruttare sia la parte medica che la parte ingegnerista e che magari mi permetta di sia insegnare che fare ricerca. Sicuramente un chirurgo e magari applicare le conoscenze acquisite dall'ingegneria nello studio dei biotessuti, della biostampa per la ricostruzione degli organi. La tua materia preferita è perché? Fisiologia. Perché è lo studio dei meccanismi di tutto ciò che abbiamo studiato in maniera teorica. Anatomia. Perché mi ha fatto comprendere che nel corpo umano tutto ha senso. La materia più difficile? Fisiologia. E tre cose più belle di medtech in UCBM. Sicuramente fare medtech ad UCBM fa la differenza. Sicuramente siamo molto seguiti ed è una cosa fondamentale con un corso così tosto impegnativo. In più l'offerta formativa del campus e del Policlinico ci danno una visione a 360 su entrambe le discipline. Specialmente anche il fatto che studiamo sia con medici che con ingegneri. Le due scienze sono totalmente complete in questa maniera. Le possibilità che l'Università Campus Biomedico ci può dare, l'innovazione e soprattutto il coinvolgimento al 360 gradi di professori medici e ingegneri attorno a noi. Ciao e grazie. Alla prossima.